Stava aspettando il tram in stazione a Padova quando ha notato un giovane muoversi con fare sospetto ed armeggiare vicino a delle biciclette parcheggiate lungo la rastrelliera. L'uomo, un sotto ufficiale dei carabinieri, libero dal servizio, ha continuato a osservare il ragazzo, un ventenne residente a Legnago in provincia di Verona, notando che stava per rubare una bici. Ha quindi cercato di fermarlo. Il giovane però ha aggredito il militare cercando di darsi la fuga in vano perché è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri arrivati in supporto al collega. Da un controllo al ventenne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che è stato sequestrato. Il ragazzo è stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.